No, che ti faceva, che ti fa ancora, però no, sono contento, è stata qualcosa di grande oggi perché con questo caldo, questa giornata strana così, ci si stancava molto, no? Però visto che anche gli altri si stancavano, allora a partenza mi sono caricato a mille, se riesco a resistere un minuto e quindici poi posso riposare due giorni, se vuoi. E quindi è stata un po', no, la penso molte volte questa, quindi sono riuscito a fare una grande, una grande gara. Senti, nel primo giro ci hai riusciato con un po' di marce? Sì, sì, perché comunque mi sentivo un po' stanco quando sono arrivato su quel piano, prima del muro finale, però mi sentivo che stavo andando abbastanza bene, allora ho cercato di andare bene, senza sbagliare, ma senza portare. Quando sono arrivato in fondo ho visto una buona gara, la seconda, ho subito pensato a seconda, adesso se finisce così la prima devo andare a tutta perché se no io c'era. Non mi regala niente, difatti ho preso.